In ginocchio a pregare il Dio della pace, insieme, oltre le divisioni delle religioni, fino a sentire la vergogna della guerra e senza chiudere l'orecchio al grido di dolore di chi soffre. Lo spirito con il quale il Papa è partito per Assisi è stato spiegato da Francesco stesso all'Omelia della Messa celebrata prima della partenza in Casa Santa Marta. Francesco oggi ad Assisi per il trentesimo anniversario dell'incontro interreligioso di preghiera per la pace tra i popoli, convocato nell'86 da Papa Giovanni Paolo II. L'abbraccio del Patriarca Bartolomeo I presso il Sacro Convento, il clima di famiglia nei saluti ai tanti leader religiosi. Francesco ha pranzato con molti di loro e con dodici rifugiati provenienti da paesi in guerra, salvati con i corridoi umanitari promossi dal Sant'Egidio. Due momenti distinti che si sono tenuti nel pomeriggio, il primo nella Basilica Inferiore di San Francesco per la preghiera ecumenica delle confessioni cristiane, in concomitanza con la preghiera delle altre religioni in luoghi scelti di Assisi e, dopo le 17, la cerimonia di chiusura dove Papa Francesco ha rivolto la sua parola ricordando che oggi più che mai il mondo ha un ardente sete di pace. A San Salvatore in Lauro, nel Centro Storico di Roma, attesa per la festa liturgica di San Pio da Pietralcina, molti gli appuntamenti di preghiera e le messe, il 22 alle 19 la veglia del transito, venerdì 23 la processione per le vie del quartiere fino a Piazza Navona e benedizione dei mezzi della protezione civile. Che il Signore ci dia pace nel cuore, ci toglie ogni voglia di avidità, di cupidiggia, di lotta, no? Pace, pace. Che il nostro cuore sia un cuore di uomo o donna di pace. E oltre le divisioni delle religioni, no? Tutti, tutti, tutti. Perché tutti siamo figli di Dio. E Dio è Dio di pace. Non esiste Dio di guerra. Quello che fa la guerra è il maligno, è il diavolo. che vuole uccidere tutti. Pregare incessantemente per la pace nel mondo, lacerato da interessi economici e avidità, oltre ogni divisione, oltre ogni differenza, fino a provare vergogna per quello di cui è capace l'essere umano. Prima di partire per Assisi, per il trentesimo anniversario dell'incontro interreligioso per la pace tra i popoli, Papa Francesco ha celebrato la messa a Santa Marta e ha messo a fuoco l'importanza di questo appuntamento. Oggi nel mondo, ha rimarcato, si soffre tanto per la guerra. Ci sono paesi che sono toccati da sanguinosi attentati e ci sono paesi in cui le persone vivono sotto le bombe. Uomini e donne, bambini e anziani ai quali non arrivano cibo e medicinali. Il Pontefice ha chiarito che la preghiera ad Assisi non vuole essere uno spettacolo, ma una giornata di preghiera e di penitenza per la pace. Un forte richiamo a non rimanere sordi dinanzi al grido di dolore di questi fratelli e sorelle che soffrono ogni giorno per la guerra. A trent'anni dall'incontro interreligioso per la pace tra i popoli, convocato da Giovanni Paolo II, Francesco è ad Assisi per confermare con la sua presenza l'importanza di implorare, concordi, il dono della pace per il mondo. Vi torna oggi per la terza volta, dopo la prima visita pochi mesi dalla sua elezione e dopo la visita nell'agosto scorso a Santa Maria degli Angeli per l'ottavo centenario del perdono di Assisi. Lo accoglie presso il Sacro Convento il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, che lo abbraccia dicendo che gioia, benvenuto. C'è poi Ignazius Afrem II, Patriarca Siro Ortodosso di Antiochia, il Vice Presidente dell'Università di Al-Azhar, per l'ebraismo il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni, poi l'Arcivescovo di Canterbury e primate della Chiesa d'Inghilterra, Justin Welby. Nel chiostro di Sisto IV lo attendono decine di rappresentanti delle chiese e religioni mondiali. Francesco innanzitutto saluta i profughi, i cristiani fuggiti da Leppo, una famiglia, col figlio undicenne Morcos, poi due nigeriane scappate da Boko Haram, una donna dall'Eritrea, un giovane del Mali. Troppo piccolo il chiostro del Sacro Convento per l'enormità dei messaggi, i grazi, gli auguri, richieste e assicurazioni di preghiere. Capi religiosi e personalità da Medio ed Estremo Oriente, rappresentanti delle comunità protestanti, islamici e buddisti, altre fedi, vescovi dell'Umbria e cardinali. Il Papa pranza con alcuni di loro, ma anche con i dodici rifugiati, provenienti da paesi in guerra, salvati grazie ai corridoi umanitari promossi dalla comunità di Sant'Egidio, con chiese evangeliche e tavola valdese. Dalla Basilica Inferiore di San Francesco si è elevata al cielo unanime la supplica dei cristiani, da Assisi, che è stato centro di preghiera per più di 450 leader del mondo, suddivisi in luoghi differenti, a seconda della religione, uniti nello scopo. Le diverse confessioni cristiane, nella celebrazione presieduta dal Pontefice, hanno pregato per tutti i paesi in guerra, nominati uno dopo l'altro, per ciascuno è stata accesa una candela. Nella sua meditazione il Papa parla del cuore inaridito, dell'amore non ricambiato, un dramma che si rinnova nel Vangelo, quando alla sete di Gesù l'uomo risponde con l'aceto. L'amore non è amato, era la realtà che turbava San Francesco di Assisi, che per amore di Gesù sofferente non si vergognava di piangere a voce alta. Così Madre Teresa di Calcutta, che si spese per estinguere la sete ed amore di Gesù sulla croce, mediante il servizio ai più poveri, tra i poveri. Il Signore è consolato quando, in nome suo, ci chiniamo sulle miserie altrui, spiega il Pontefice, che ammonisce le parole di Gesù. Ci interpellano. Nel suo sete possiamo sentire la voce dei sofferenti, il grido dei piccoli innocenti, la supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace. Implorano pace le vittime delle guerre, chi vive sotto la minaccia dei bombardamenti o è costretto a migrare verso l'ignoto. Tutti costoro sono fratelli e sorelle del crocifisso, piccoli del suo regno, membra ferite e riarse della sua carne. Hanno sete, ma a loro viene spesso dato, come a Gesù, l'aceto amaro del rifiuto. Chi li ascolta, chi risponde loro, interroga Francesco. Essi incontrano troppe volte il silenzio dell'indifferenza, l'egoismo di chi è infastidito, la freddezza di chi spegne il loro grido di aiuto, con la facilità con cui cambia un canale in televisione. Di fronte a Cristo crocifisso, potenza e sapienza di Dio, noi cristiani siamo chiamati a contemplare il mistero dell'amore non amato, e a riversare misericordia sul mondo. Sulla croce albero di vita il male è stato trasformato in bene. Anche noi, discepoli del crocifisso, siamo chiamati a essere alberi di vita, che assorbono l'inquinamento dell'indifferenza e restituiscono al mondo l'ossigeno dell'amore. dal fianco di Cristo in croce uscì acqua, simbolo dello Spirito che dà la vita. Così da noi, Suoi fedeli, esca compassione per tutti gli assettati di oggi. Come Maria, presso la croce, ci concede al Signore di essere uniti a Lui e vicini a chi soffre, accostandoci a quanti oggi vivono dal crocifisso, crocifissi e attingendo la forza di amare dal crocifisso risorto, cresceranno ancora di più l'armonia e la comunione tra noi. Il Papa, ancora una volta accanto a Bartolomeo, al patriarca siro ortodosso, all'anglicano, al musulmano, il piazzale di Assisi colmo di capi e rappresentanti religiosi da tutto il mondo, sul palco l'intervento di Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, e tra gli altri le testimonianze di una siriana, di un sopravvissuto ai campi di concentramento. Poi, la cerimonia che sintetizza, nei gesti, la forza umile e mitia della preghiera, che protegge il mondo e lo illumina. La pace è il nome di Dio, chi invoca il nome di Dio per giustificare terrorismo, violenza e guerra, non cammina nella sua strada. Lo ribadisce l'Appello per la Pace 2016, letto dopo il silenzio in memoria delle vittime delle guerre. Violenza e terrorismo si oppongono al vero spirito religioso, Consegnato dai capi religiosi e bambini, che lo portano ai rappresentanti delle nazioni, l'appello viene firmato prima dello scambio del segno di pace. L'acqua limpida della pace, di cui l'umanità è assetata, non può scaturire dai deserti dell'orgoglio e degli interessi di parte, dalle terre aride del guadagno a ogni costo e del commercio delle armi. Nel suo discorso, Papa Francesco cita San Giovanni Paolo II, riaffermando il legame inscindibile tra il grande bene della pace e un autentico atteggiamento religioso. Diverse sono le nostre tradizioni religiose, ma la differenza non è per noi motivo di conflitto, di polemica o di freddo di stacco. Oggi non abbiamo pregato gli uni contro gli altri, come talvolta è purtroppo accaduto nella storia. Senza sincretismi e senza relativismi, abbiamo invece pregato gli uni accanto agli altri, gli uni per gli altri. San Giovanni Paolo II in questo stesso luogo disse «Forse mai come ora nella storia dell'umanità è divenuto a tutti evidente il legame intrinseco tra un atteggiamento autenticamente religioso e il grande bene della pace». «Continuando il cammino iniziato trent'anni fa ad Assisti, dove è viva la memoria di quell'uomo di Dio e di pace che fu San Francesco, ancora una volta noi, insieme, qui riuniti, affermiamo che chi utilizza la religione per fomentare la violenza ne contraddicce l'espirazione più autentica e profonda, che ogni forma di violenza non rappresenta la vera natura della religione. e invece il suo travisamento che contribuisce alla sua destruzione». Non ci stanchiamo di ripetere che mai il nome di Dio può giustificare la violenza. «Solo la pace è santa, solo la pace è santa, non la guerra». A San Salvatore e Lauro ci si prepara la festa di San Pio da Petralcina. Quali celebrazioni? Partiamo per la veglia del transito, il giorno 22, sempre alle 18, e la grande messa con la festa di Padre Pio, il giorno appresso, il 23, e faremo la messa in piazza con la processione prima dalle ore 16. Ecco, invitiamo appunto anche attraverso la vostra emittente tutti i fedeli e i devoti di Padre Pio ad essere qui a San Salvatore in Lauro per questo grande momento di festa e di preghiera soprattutto. Come si vive questa attesa della festa, questa preparazione anche davanti alle reliquie del Santo di Petralcina? Ecco, ogni anno vengono esposte e per nove giorni, quanto dura questa novena, vedono davanti sfilare tantissima gente e la testimonianza anche di una preghiera che rimane un elemento fondamentale di questa Chiesa. Ecco, la preghiera che prepara alla celebrazione di un evento ogni anno molto caro e molto sentito da tantissime persone. Che grazie chiedere a questo Santo? Noi abbiamo sempre una grazia primaria, ecco, e la chiediamo con grande insistenza, che è quella della conversione, nostra prima di tutto e poi dell'umanità. Sono grazie grandi, lo Spirito Santo opera, certo che i tempi sono molto complessi. Allora, la richiesta di questa grazia, perché tutte le altre, compresa la pace, le vocazioni, compreso tutto quello che poi si può chiedere come seconda battuta, nasce da questo, la conversione del cuore. Se la gente, se noi torniamo fino in fondo a Dio, secondo l'esempio anche di questi santi che la Chiesa ci offre, tra cui Padre Pio, ecco, se il nostro cuore cambia come è cambiato il loro, tutto il resto ci verrà dato in abbondanza. Lo dice Gesù con grande chiarezza. Padre Pio è stato il Santo dell'Anno Giubilare insieme a San Leopoldo e a Madre Teresa. Questi tre sono gli elementi che sono stati offerti come testimonianza vivente. Padre Pio è passato di qui. Ecco, quindi noi abbiamo avuto l'opportunità di averlo per un paio di giorni e è sfilata davanti a quest'urna e a quella di San Leopoldo decine di migliaia di persone, un'esperienza meravigliosa. E il significato qual è stato? Perché Padre Pio è venuto anche da noi? È venuto qui perché dove si radunano i suoi gruppi si deve sentire una presenza spirituale particolare che ha due elementi, due vertici. Il primo l'Eucarestia, adorata e vissuta, perché il problema di fondo è l'adorarla ma poi viverla. E il secondo fulcro è il confessionale, dove ti accorgi di essere peccatore e sai che lì c'è sempre qualcuno che ti aspetta per donarti il perdono del Signore. Osservatore Romano con la data di mercoledì 21 settembre. Il giorno della pace. Da Santa Marta, prima di partire per Assisi, il Papa invita le donne e gli uomini di buona volontà in tutto il mondo alla preghiera e alla penitenza. Nel Sacro Convento, il pranzo con un gruppo di rifugiati, poi nel pomeriggio la celebrazione ecumenica e l'incontro con il leader religiosi. Finita la tregua in Siria, Raid colpisce un convoglio umanitario uccidendo 20 operatori della Croce Rossa. Violento incendio all'Esbo, distrutto il campo profughi. Il dolore della conferenza episcopale, assassinati due sacerdoti in Messico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.